Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro per l'economia. La designazione... Non ce n'è, per nessuno sai, i maio e i Salvini scornacchiati sono ormai. Ma Tarella sa come si fa a impedire che lo spreccio faccia sprofondare. Sembrava Keto, 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 ma pone Beto, 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 e chi l'avrebbe pensato mai? Grille e la Lega sono nei guai, Grille e la Lega sono nei guai. Nomine invece Cottarelli, e poi che sarà, qualora se andasse presto al voto, si vendrà. E nessuno sa come finirà, lui è un tosto, già si sa. Non è farlocco come l'altro, il suo curriculum da sta. Se brandisce la Costituzione, Matteo è un vero asso, ben più forte di un leone. Chi lo accusa, il vero mi fa, perché il vero in corte lui fu già tanti anni fa. L'eropulista, il peggiore, il nostro Sergio, è il terrore. E non c'è Draghi che soldi dia, è l'italiano più forte che ci sia. Sembrava Keto, e guarda qua! Le soldi di questi tempi lui, Mattare. Quando a stavola dice lui, Mattare. Mattare, se metti, non appari, ora sono dei miei compari. Mattare, Mattare, Mattare. Mattare, Mattare. Non ce n'è per niggi uno se, lui è arrabbiato. Mille chance, qui vede, e... Le ha sprecate. Solo una cosa, non volerà. Lo saprè in tutti. Ma se buttaron proprio la... Peggio per loro... Peggio per loro... Peggio per loro... Si dirà!